ciao a tutti oggi vediamo come si pulisce l'insalata nel bimbi in maniera molto veloce puliamo l'insalata a foglie belle larghe e le inseriamo nel boccale le separiamo le foglie aggiungiamo dell'acqua piacimento possiamo mettere un po di bicarbonato chiudiamo e impostiamo anti orario soft per un minuto possiamo anche aumentare a 1 la velocità trasferiamo il bimbi in maniera il minuto, vediamo il risultato. La nostra insalata è lavata. Dopo averla scolata molto bene, rimettiamo l'insalata nel boccale. Richiudiamo e adesso impostiamo la grandezza dell'insalata, le foglie come le desideriamo. Sempre anti-orario e andiamo a una velocità che va dall'1 al 3 per grandezza desiderata. Non esageriamo se non si sminuzza tutta, anche con l'anti-orario. Vediamo. La mettiamo per 10 secondi. Ecco che il nostro bimbi lavora e ci sminuzza l'insalata in modo delicatamente. Se la vogliamo un po' più sminuzzata, aumentiamo la velocità. Vediamo il risultato. Cos'è il risultato? La nostra insalata è bella, lavata e sminuzzata. Così era l'inizio. Così è tutto. Grazie, ciao a tutti.